Miracolata, praticamente illesa, un incidente stradale autonomo che ha coinvolto la conducente di una Renault Atkana si è registrato poco dopo le 9 di stamani lungo la via Portosalvo in prossimità dell'ingresso dell'hotel NH Villa San Mauro. La macchina, che è andata letteralmente distrutta, si è schiantata contro il muro d'ingresso di un'abitazione della zona. L'impatto contro la barriera muralia è stato violentissimo, ma grazie ai dispositivi di protezione dell'airbag, la donna è rimasta fortunatamente illesa. La sfortunata ha riportato solo lievi e scoriazioni, ma si è recata in via precauzionale al vicino pronto soccorso dell'ospedale Greminia. La ricostruzione del sinistro e relativa dinamica sono affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone, che hanno compiuto i rilievi. Da accertare semmai le cause che hanno determinato la perdita del controllo della vettura. La Renault, secondo una sommaria ricostruzione, avrebbe dapprima impattato contro una colonnina del gas. Detta circostanza ha determinato anche la fuoriuscita di gas metano. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Caltagirone, che per motivi di sicurezza, vista la partita di gas, hanno impedito il transito a pedoni automobilista, nell'attesa che giungessero i tecnici del gas.